Signore e signori, qui con noi a CapDoc, Enzo Abitabile! Ciao! A maronna mia, a maronna tu, a me, a maronna d'accompagna, a maronna d'accompagna, da benarica, padre, figlio e spirito santo, da benarica, padre, figlio e spirito santo, a me. Grazie Enzo, grazie Enzo per essere intervenuto qui a CapDoc. Allora Enzo, io ti voglio subito dire, hai lasciato il sax? Cos'è la tamorra? Ma questa è la tamorra perché io ho cominciato col popolare, no? E insieme a loro, che sono i figli di Bottari, che suonano con me, e quindi faremo questo pezzo, che è un vecchio pezzo mio, Soul Express, però lo facciamo in maniera un po' più agreste, come ti posso dire. Ok, ok, insomma, a maronna d'accompagna. Sempre, grazie, grazie. Allora, io ti volevo chiedere però subito una cosa. Sì. Qual è la differenza, perché, questo è stato detto tanto, ma lo voglio chiedere a te, tra te e lui, James Enzo? Ma, guarda, è un fatto di cultura, no? Lui viene da una cultura popolare e poi ha un parrucchiere diverso dal mio. Io ho fatto le scuole grandi, a Napoli si dice le scuole superiori e c'è un parrucchiere un po' più affinato rispetto a lui. Quindi non sei tu che hai copiato i suoi capelli? Ma, veramente, è lui che li ha copiati relativamente, perché lui una volta ha messo il dito nella corrente e i capelli sono andati così. Sì, però, a me sono ricci naturali. Ah, oh, capisco. Sì. E allora, un'ultima cosa. Sì. Io, quest'estate, insomma, ti ho visto... Padre, figlio, spirito santo, a me ne scusi un momento della preghiera. No, lo so, lo capisco. Ma, non è una roma, non è una roma, non è una roma, non è una roma, ma tu, sì, grazie, ok, scegli, vai, dimmi. Ok, hai un rapporto molto stretto con la fede, però in queste ore non entriamo. Io ti voglio chiedere però solo una cosa, ma non hai caldo. Io l'ho visto pure quest'estate. E' in pieno pomeriggio passeggiare con tutte queste sharp. Io tengo sempre queste sharp perché nascondono la fede, che però in questo momento la caccio, perché vedo che molti politici cacciano la cruce. No, e allora... Sono da tanto tempo che l'ho cacciata. No, 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 metti mai l'indolo. Sì, sceli, la mettiamo dentro. Non cadiamo allo stesso tempo. Camarone si dispiace. Eh, punto, perfetto. E allora, signore e signori, qui ho il piacere veramente grande di poter, insomma, come dire, ecco, far suonare poi loro da quanto tempo suonano con te? Vent'anni. Pure loro? Sì, loro sono, erano delle botti, poi sono diventati umani e ora sono loro, i bottari, i figli di bottari. Guarda, se veramente sei stato fosse il più difficile da gestire fino ad ora, credimi. Allora, signore e signori, per la sigla finale di Cup Doc, lui è il suo abitabile! Geri, grazie, padre, figlio, spirito santo, la maronna va con me, tutto quanto, vai con il groove. Vai, padre, figlio, spirito santo, la maronna mia, la maronna tui, ok. Cantato tutto quanto a presa a me, una botte che portara a cruce la maronna. Geri, chiamami se lo vedi e credimi in questo treno, se lo perdi non lo prendi più, finché non ha frontiera e volo su mari e muri, sulle cittelle ciminiera. Sono l'express, certamente non è d'oro, sono l'express, ma vedrai non ha colore. Sono l'express, viaggio solo ad una classe, sono l'express, sono l'express, sono l'express. Oh, e per me, padre, figlio, spirito santo, la maronna abbraccia tutto quanto, vai con l'express. Geri, senti una sola lingua, è meglio la stessa cosa, eppure è gratis, puoi salire su. Di tutte le razze, ci sono di tutti i tempi, umani extraterrestri e dei, solo l'express, vecchi, giovani e bambini. Oh, solo l'express, solo l'express, oh, eppure è gratis. Oh, e per me, padre, figlio, spirito santo, la maronna abbraccia tutto quanto. Gie, 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 viene che può stare a presa a me, yeah. La cultura è una cosa, viene con me, è barata a leggere. Oh, e amm.